di questa festa, io però vedo tra il pubblico, l'ho già visto da parecchio tempo, un caramico eccolo qua, in prima fila, adesso cerca di nascondersi però non ce la fa Antonio De Via, Antonio De Via, vieni qua sopra per piacere, vieni, 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 vieni che mi dai una mano dai, 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 Antonio, Antonio, voi lo conoscete voce, volto di Rai, tre per una vita, prima Radio Montecano, un applauso, un applauso e voglio anche salutare, voglio anche un grande grande applauso per gli amici di Imperia TV per Pomati, Andrea sei andato via? No, ci sono tutti che ringrazio perché la televisione è importante entra in tutte le case, entra nelle vostre, nelle nostre, anche quando le vogliamo perché è sempre accesa, ormai è diventata un'abitudine, però ci sono questi signori c'è questo signore qua, c'è Andrea, c'è il cameraman e quindi grazie di essere qui questa sera perché poi nei giorni della prossima settimana ci rivedremo e io mi rivedrò e dico ma guarda un po' ma chi te l'ha fatto fare, ma è possibile? Comunque vi ringrazio, Antonio tu sei qui, paghi lo scotto e quindi mi dai una mano adesso nella premiazione, il microfono è tu, fai quello che vuoi, io chiamo i vincitori e chiamo le autorità a premiare e tu vedi, fai dei flash, fai quello che vuoi, lascia aperta la fantasia, la tua professione. Mi hai scambiato per Tom Shannon, devo fare quello che voglio. No, Tom Shannon è unico nel suo genere, tu sei unico nel tuo. Bene, io direi di partire subito con le premiazioni e partiamo. Adesso leggo, prima sono andato a braccio, leggo perché non voglio fare delle gaff, perché quando c'è il premio di mezzo, vieni qua Giada, vieni qua, vieni con noi, vieni con noi, sei l'unica bella, sei l'unica bella. So che c'è tua madre, c'è tuo nono, Nando Ziveri è il nono di questa bella ragazza, Nando Ziveri è una leggenda per la riviera e per la provincia di Pere, un applauso a Nando Ziveri, non so dove sia, è qua, eccolo là, Nando. Bene, cominciamo con la premiazione, io direi che di cominciare con le pizzerie, pizzerie partendo dal fondo, aspetta che ho bisogno degli occhiali perché a questo punto qui, ecco, l'ho dimenticato, non lo so, puoi vedere un attimo? Ci siamo, allora partiamo dal terzo premiato delle pizzerie, il terzo premiato è un saremese, è il titolare della pizzeria Il Corsaro, io prego il rappresentante, se c'è il proprietario, se c'è, sicuramente ci sono perché sono tutti presenti quelli che hanno partecipato, prego, grazie e pregherei anche di raggiungermi, che succede? C'è qualcosa che non funziona? C'è qualcosa che non funziona?